La sfida abbia messo. Ad assorbire il potere da alcuni conduit, come ad esempio Anche, e non dagli altri, come ad esempio uno di questi agenti del D.O.P.? Oddio, non dirmi che prima ci hai provato. Ehi, ora non cominciare con te l'avevo detto, ok? Ecco. Una risposta. Che belli come ballano, guarda che belli. C'è tutti i bug del mondo, va bene. Oh! Non facciamo scherzio. Adesso avessero bloccato gli ascensori. Beh, può darsi che tu sia in grado di assorbire solo il potere da un conduit che lo ha ottenuto naturalmente. Un conduit primario, come Hank, o magari Augustine. Gli agenti del D.O.P. hanno preso tutti i loro poteri più deboli da Augustine, quindi forse non possono passarli ad altri. Nemmeno a te. Insomma, mi stai dicendo che dobbiamo andare avanti. Mi pare giusto. Non insistere. La prossima volta, però, cerca di non raccontarmi bugie. Fidati a un po'. Questa roba dall'interno fa ancora più schifo. Voglio proprio spaccare questo colpo. Sono Betty. Dove sei? Ah, ciao, Betty. Sono... Allo Space Needle. Oh, d'accordo. Ti richiamo più tardi. Mandami una cartolina. Ah, certo, se il negozio di souvenir non chiude prima. Ciao, Betty. Ciao, tesoro. Ciao. Ah, sì! Andiamo alla grande! No, porca troia. Non posso morire ora, non posso morire ora. Corri, 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 Delfin, corri. Mori! Devi morire! Mori, vaffanculo, te. Ok. Distruggi il sostegno, cioè? Ah, capito. Questo intendo dire, vero? Non basterà assegarlo. Ottenere nuovi poteri non è un male. Ok. Dov'è il nucleo trasmettitore? Ah, ecco dov'era. Perfetto. Guardiamo un po'. Questa sarà una cosa epica! Ok, ci piacciono le cose epiche. Cosa ci fai? Non è stato così male. Ecco fatto. Non va meglio così. Uh! L'indiratore della serie karmica. Completo una serie karmica. Sottomettendo gli amici. Colpendo i civili. Interromperà la serie. Ottenuta la serie karmica. Premi... Quello lì. Per seguire uno schianto orbitale. Proviamo. Sostegno andato. Ciao, bello. Eh, chissà perché non ricevete più segnale. Sì, Regi. Troviamo dei conduits primari e assorbiamo altri poteri. Siamo i padroni delle strade. Ma ci piano. Di alcune strade. Solo quelle più vicine. Ok, il DUP controlla ancora l'altro 98%. Ah, bene. Con l'indiratore che usciti dallo Space Needle, dai! Hai distrutto il centro comunicazioni, ok? Non ci sentiranno, ma non sono stupidi. Per cacciare completamente il DUP da Seattle ci vorrà tempo. Va bene. Oh, io farei questo. È troppo figo. Boh, che si fa? La carità no, dai. Oh, io faccio questo. Mi ispira troppo. Il ciuchino. Eh, Regi. La vedi bene da lì? Stai scherzando? Credo che si veda anche da Portland. Voglio solo che i DUP sappiano che sono qui. Chi è quello? Non è uno dei tre fuggitivi? No, no. Mi si è completata la sfida. Perfetto, signori. Quindi, ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, commentate e condividete. Noi ci vediamo con il prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao. 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 Grazie a tutti